14 provvedimenti di Daspo Willy della durata di un anno hanno interessato ragazzi tra i 18 e i 21 anni di nazionalità italiana e straniera. La rissa di Halloween, così rinominata dal questore Luigi Liguori, è scoppiata lo scorso 31 ottobre all'interno di un locale della zona centro-nord della città di Pescara per poi consumarsi all'esterno. I ragazzi, identificati grazie alle attività di indagine della squadra mobile, ora non potranno per la durata del provvedimento entrare nel locale dove c'è stata la rissa, in quelli analoghi, né partecipare alla movida cittadina. Il fenomeno delle liti però non riguarda solo maggiorenni, infatti dall'autunno scorso questi sono fatti piuttosto consueti, soprattutto nel territorio tra le città di Montesilvano e Pescara. È un fenomeno che al momento non è preoccupante ma d'esta attenzione perché abbiamo avuto diverse risse nel capoluogo, risse che in questo caso hanno dato origine a questi 14 Daspo. si trattava di un locale pubblico dove è iniziata questa risse e poi è stata proseguita all'esterno del locale. Abbiamo colto l'occasione per parlare di questo fenomeno, delle liti a volte o poi alla fine scaturiscono in vere e proprie risse tra soggetti che in questo caso riguardano ragazzi di 14-15 anni che aggrediscono per futili motivi altri ragazzi, spesso che provengono dalla provincia oppure che provengono da altre province. Soprattutto per i minorenni le liti si consumano nelle ore pomeridiane, per questo la Polizia ha intensificato il servizio di prevenzione e di controllo su ragazzi che nel weekend affollano la città. Questi ragazzi, considerata la giovanissima età, escono intorno alle 16 del pomeriggio per far rientro entro le 22 e proprio queste risse avvengono nel tardo pomeriggio, quindi le famiglie devono avere un livello di attenzione perché anche in queste fasce orarie possono essere coinvolti in episodi del genere, quindi ci deve essere un'attenzione reciproca sia delle famiglie che delle istituzioni al fenomeno. Infine, un monito da parte del questore anche ai gestori dei locali. La somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni è vietata e quindi tutti i locali, tranne pochissime eccezioni rispettano il divieto, a volte qualche utente cerca la somministrazione camuffata tramite sostanze alcoliche all'interno di bevande analcoliche, ma l'attenzione è alta e la stragrande maggioranza dei gestori rispettano le normative.